Salita da Costiolo a Bricalvaia per la prima in assoluto tutto nuovo GFT Stai riprendendo? Si Bravo Eccolo Regola regola che non si sa mai Stiamo salendo a Bricalvaia C'è che la sommo che? Qui sembra una di quelle che facciamo per andare a Giorolo Arrivata la congiunzione sembra che ci sia un altro bivio Gli passo sopra o gli passo sotto? Sopra Gli passo sopra? Sopra All'olio ho passato sopra Che leggerezza che salgo guarda MTB Enduro Ottimo Giro la camera Giro la camera Non inquadrare quelli che sono a piedi Giro la camera Guarda dove la camera Salgono Iscrivile Puoi che ti faccia vedere nel trial così si fa quando c'è Facciamo un willy in coppia Aaaaaah Fabri Guarda un po' la luce accesa Aaaaaah Bastardo Io prevedo che di cadere Si scarlica qua Fate attenzione ai vami Io ho le gomme anche troppo dure Eh Questo qui invece è asciutto Eh vabbè però Lo devi fare comunque eh Questo è asciutto Eh asciutto le palle Eh asciutto le palle Discesa di nuovo sulla lella E' asciutto le palle Sì E' asciutto Amma mamma 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 Dai 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 dai